Sì, io vado a votare, ma non vado a votare per tutte le motivazioni strane che tutti si stanno inventando. Vado a votare per il semplice motivo che anche dopo aver visto il filmato che avete mandato in onda, ritengo che sia giusto andare a votare sì. Tra le varie cose, non sono d'accordo con chi dice che questo referendum è un referendum contro Renzi. Questo è la pioggerellina primaverile. A me interessa quando ci sarà un referendum pro o contro il governo, sarà dopo l'estate.